La consulta diocesana degli organismi socioassistenziali si è riunita questo pomeriggio al centro istamaritano di Via Giordani. È stata l'occasione per fare il punto sulle opere di carità e per presentare due progetti al via nelle prossime settimane. Per gli anziani si tratta in particolar modo di dare una risposta a Piacenza che ha una lista di attesa di persone che vorrebbero entrare in strutture ma non c'è posto, posti convenzionati e quindi con la collaborazione della consulta, del comune e della fondazione si darebbe la possibilità a 25 di queste persone di entrare in strutture ai costi per le famiglie pari a quelle convenzionate. Mentre invece per il disagio adulto si tratterebbe di sperimentare un po' l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro cioè attraverso piccoli lavoretti di tinteggiatura, di sistemazione delle case. Presente oggi è anche il Vescovo Monsignor Gianni Ambrosio che ha parlato del cammino verso il prossimo convegno nazionale della Chiesa che si terrà a Firenze. Il governo di Firenze vuole essere un segno di una vita nuova, di una vita rinnovata per la Chiesa in primo luogo che deve vivere la fede pasquale nella vita di ogni giorno ma anche un rinnovamento e una vita nuova per la nostra complessiva realtà italiana. I convegni nazionali della Chiesa italiana sono sempre stati all'interno di ogni decennio un punto di riferimento per diverse iniziative. Grazie a tutti.